Il mondo si è rotto. Abbiamo perso il senso delle cose. Ci chiudiamo nel silenzio artificiale della nostra musica senza sentire quella che il mondo suona per noi. Ci riempiamo di oggetti che non ci servono per colmare il vuoto che abbiamo dentro. Spendiamo denaro che non abbiamo per cose che dureranno meno del nostro debito. Siamo costantemente connessi, interfacciati, collegati, eppure sempre più soli. Siamo diventati ciechi ed insensibili, tanto al bisogno e al dolore che alla bellezza delle cose piccole ed effime. Un altro essere umano, un fratello con il quale la vita non è stata gentile, o il gentile batuffolo della mimosa che sta per fiorire. Pure il calicanto, per esempio, pianta coraggiosa che emette quei fiori meravigliosi e profumati quando tutto attorno è freddo e spoglio. Come si può non commuoversi di fronte al calicanto? Ecco perché il mondo si è rotto. Perché ci siamo dimenticati come fare a guardarlo. Ci siamo dimenticati di essere curiosi, di farci le domande giuste. Ci siamo dimenticati che una vita senza ricerca non è nemmeno degna di essere vissuta. Ma c'è un posto da cui tutto questo si vede, chiaro, limpido e nitido. C'è un posto da cui si capisce al volo quali sono le cose importanti, quelle che rendono una vita densa e piena. Si tratta della fine. Solo davanti ad essa, alla nostra fine, siamo capaci di distinguere le cose fondamentali dai mille palliativi dell'esistenza. Bisogna guardarla in faccia, la fine, per scegliere. Perché l'umanità non sarà perduta finché non avremo perduto la nostra umanità. Ma seconda, la fine, per scegliere. Perché l'umanità non avremo perduto la nostra una nuova. Ma seconda, la fine, per scegliere. Un'attività non avremo perduto la nostra umana. Grazie a tutti.